Un pareggio e tanti rimpianti, l'Aurelio viene bloccato nel big match di giornata da una foglianese davvero corsara che alla fine è riuscita a strappare un punto dal Don Calabria e mantenere la striscia positiva iniziata proprio dopo la partita contro la formazione di Bevilacqua. La prima occasione la costruisce il capo cannoniere del campionato Croce che dopo il buco di Gasfoni si presenta tu per tu con Rossi, palla al lato. Undicesimo minuto la risposta della foglianese, ci prova Brizzi, tiro strozzato, sfera sul fondo. Al venticinquesimo punizione Aurelio, Margiotti prova a piazzare, Rossi è bravissimo a respingere in tuffo. Ventinovesimo è il turno di Verduchi, ingolosito dal rimbalzo del pallone, calcia con il destro, palla fuori di poco con Nasta che controlla. Al trentasettesimo l'ultimo brivido del primo tempo, palla che rimbalza al limite dell'area, arriva Tomagnini, ancora Rossi, bravissimo a bloccare. Nella seconda frazione di gioco la partita decolla, al quarto succede di tutto nell'area di rigore della foglianese, la pressione degli attaccanti dell'Aurelio, Rossi rischia sul rinvio, ne esce una carambola pazzesca, con il pallone che si stampa sulla parte superiore della traversa, arriva Tomagnini che da due passi, cicca il pallone che termina fuori. Al quattordicesimo, contatto in area, va giù Melito, agganciato da dietro, José Maria di Albano non ha dubbi, calcio di rigore per la formazione di Ottaviani. Dal dischetto si presenta Colapicchioni che non sbaglia, pallone da una parte, portiere dall'altra, 1-0 Aurelio al minuto numero 14. Esultanza particolarmente colorita per il numero 7 che poi festeggia con i suoi compagni. Passano 10 minuti però e la foglianese arriva al pareggio. Lancio in area di rigore, contatto Palombi Nasta, fischia ancora José Maria di Albano, non è carica sul portiere, è calcio di rigore per la foglianese che a 10 dalla fine ha la possibilità di pareggiare. Dagli 11 metri parte Foglietta con il destro, esecuzione perfetta del numero 9 Orange e 1-1. Al trentunesimo del secondo tempo lo stesso Foglietta ci prova su punizione, conclusione questa volta fuori misura. Nel recupero forcing finale dell'Aurelio, cross da sinistra, colpo di testa di Capitan Croce, il suo praticamente è un passaggio a Rossi. Allo scadere del recupero ancora un'occasione per l'11 di Ottaviani, ma ancora una volta Rossi la inchioda lì, chiudendo definitivamente i giochi. Finisce dunque 1-1 il big match del Don Calabria, un risultato che lascia l'amaro in bocca in casa Aurelio, ma fa sorridere la foglianese che continua la sua striscia di imbattibilità e soprattutto riapre il campionato. Per fuori area, Gabriele Giustiniani. Grazie a tutti.